Silvio Paolucci, è un provvedimento di questi giorni, la rete ospedaliera a parte della regione Abruzzo, un provvedimento che non la trova d'accordo, perché? Si costituisce un tavolo tecnico per alcune modifiche sulla rete ospedaliera, ma si richiede da un lato l'affiancamento dei tecnici ministeriali. Io voglio ricordare che noi abbiamo concluso l'esperienza commissariale, ci siamo riappropriati delle nostre funzioni, competenze e anche della nostra autonomia. In questa delibera non c'è il ruolo della Giunta, non c'è il ruolo del Consiglio regionale, non c'è il ruolo dei sindaci e anche nel tavolo tecnico stesso manca una figura molto importante, un vero e proprio settore della sanità, quello delle professioni sanitarie, per capirci il ruolo degli infermieri e con essi anche delle altre figure delle professioni sanitarie. Sono molto in disaccordo perché sostanzialmente viene meno il potere del Consiglio regionale sulla programmazione, ma è soprattutto il tentativo di de-responsabilizzarsi rispetto a una campagna elettorale fatta di tanti selfie e promesse e poi all'atto pratico, se non si dovessero raggiungere gli obiettivi che pure sono stati promessi in ogni comune e in ogni territorio, ecco che è stata composta una delibera che scarica la responsabilità ai tecnici. Sul lavoro svolto dalla Giunta regionale fino ad oggi, Paolucci ha aggiunto infine. Giunta lenta che rallenta l'Abruzzo. In 100 giorni io chiedo a chiunque se si possa in qualche modo ricordare di questo governo regionale una sola iniziativa, un solo obiettivo colto. Anche sul tema infrastrutturale delle autostrade, in realtà tutti i problemi sono rimasti tra virgolette appesi. Si è fatto un gran cancan chiaramente e giustamente sul tema della chiusura del traforo, ma anche sul tema per esempio del collegamento e infrastruttura autostradale abbiamo tutti i nodi ancora da affrontare.